La preparazione degli scalatori per fare questo tipo di manifestazioni? Questo fa parte della scuola di alpinismo in cui noi abbiamo qui a Busso la scuola della torre in cui si addestrano i giovani, prevalentemente giovani, che poi amano scalare, andare in montagna e quindi queste sono tecniche basilari per le discese e le salite. Lei è uno scalatore? Io non sono uno scalatore ma non un arrampicatore in senso proprio, quindi da questo punto di vista uso racchette, scarponi, ma a questa età poi è un po' più complicato. Diciamo, affrontare discese, salite. Ma ci sono tante attività, magari anche le ciaspolate, lo scilifondo, cioè le organizzate tante. No, quello lo facciamo regolarmente, facciamo attività di vario tipo, anche più o meno impegnative, ma comunque a vario livello. Anzi, da questo punto di vista devo dire che variamo in modo tale da accogliere anche persone che sono meno preparate e quindi facciamo anche delle escursioni rigite per persone che possono permettersi degli impegni limitati. Grazie. Grazie.